L'era di Internet ha ridefinito il rapporto tra commercio e clienti. Con l'aumento delle spedizioni internazionali è fondamentale avere consegne a domicilio tempestive e tracciate. Questi sono i punti prioritari per l'e-commerce oggi. Incrementa il tuo potenziale con Fully Tracked Goods di Asendia. Il servizio è totalmente tracciato con due opzioni di consegna, il Mailbox e il Personal Delivery, con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di resa e aumentare la soddisfazione del cliente. Con il servizio Mailbox Delivery è possibile consegnare la spedizione direttamente nella casella postale del cliente o, in alternativa, nel più vicino ufficio postale. La maggior parte delle spedizioni e-commerce sono oggi inferiori ai 2 kg e di basso valore e Fully Tracked Goods si adatta al mercato, rendendo il tuo lavoro più semplice e permettendoti anche di gestire direttamente le spedizioni tramite il tool gratuito Asendia Shipping. Potenzia la crescita del tuo e-commerce internazionale con il servizio di Asendia. Fully Tracked Goods si adatta ai bisogni del mercato e combina la convenienza e la flessibilità delle reti postali nazionali con la tranquillità di una tracciabilità completa.